Sarà una vastese dall'attacco ricco di fantasia quello che affronterà il prossimo campionato di Serie D. In settimana Giordano Napolano infatti si è legato al sodalizio bianco-rosso e proprio a vasto ritroverà come tecnico Ottavio Palladini. I due hanno lavorato insieme a San Benedetto del Tronto facendo grandi cose e sperano di ripetersi anche con la vastese. Un altro colpo messo a segno del presidente Franco Bolami è la permanenza del capitano Nicola Fiore che taglierà il traguardo della sua settima stagione in maglia vastese con Fiore e Napolano, un mancino e un destro rispettivamente. Palladini avrà due specialisti micigiali dei calci di punizione, guai a fare fallo nei dintorni dell'area di rigore. La società ora tenta di trattenere il portiere Camerlengo e il difensore Viscardi. Circa l'uomo gol, il sogno e il ritorno di Umberto Prisco ma non si esclude una permanenza del bomber dell'ultima stagione Vito Leonetti. Ad Avezzano prosegue la vendita delle tessere del socio-sostenitore per alimentare la speranza di ripescaggio che passerà per la presentazione della domanda. Intanto il patrone Gianni Paris ha incassato anche l'ok per la permanenza dell'attaccante Lorenzo Di Curzio ed ora sta lavorando per la conferma più attesa, quella del bomber brasiliano Mateus Dos Santos. Andranno via alcune seconde linee come a Catullo, Sesai e Priorelli. Da verificare invece la situazione del gioiellino Michael Deramo sul quale svariate squadre di pro hanno messo gli occhi. Sarà una stagione con tante conferme anche a Pineto dove si ripartirà dal tecnico Daniela Maulo per proseguire il percorso di crescita già intrapreso negli ultimi anni. Tanti big resteranno e c'è un sogno, l'attaccante Marco Sanzovini che ha l'ultimo anno di contratto con il Pescara e potrebbe essere girato al Pineto visti gli ottimi rapporti tra i presidenti Sebastiani e Brocco. Pineto che applaude anche alla bella stagione della Juniors di Serie D che è arrivata ad un passo dalla finale, negata dalla sconfitta con la Re Canatese nella semifinale di due giorni fa a Via Reggio. Ci sono tre piazze per le quali continua a regnare incertezza, l'Aquila, San Nicolò e Giulianova. All'Aquila il manager romano Gianluca Iussa ha calato l'asso nella manica, Bruno Conti, nome di prestigio per dare credibilità al progetto tecnico. Ma l'Aquila continuerà a fare calcio in D solo se saranno risolti i problemi di natura amministrativa, solo se ci sarà modo di gestire la massa debitoria e fare il passaggio delle quote sociali. Il tempo stringe, visto che siamo a due settimane dal termine per effettuare l'iscrizione in Serie D. Su questo ci sono ancora tante nubi. A San Nicolò invece è saltata la trattativa per la fusione con la Virtus Teramo. Ognuno andrà avanti per la sua strada, dunque con la conseguenza che il duo allenatore di esse, di Serafino-Micciola, sarà quello della Virtus Teramo in eccellenza, mentre il San Nicolò dovrà colmare i vuoti del comparto tecnico, andando incontro ad un progetto sportivo meno ambizioso. Situazione non facile da decifrare anche a Giulia Nova. Una settimana dopo l'incontro tra il presidente Bartolini e Peppe De Cecco, sono arrivate le dimissioni in blocco del DG Mimmo Vernacotola, della responsabile del rapporto con le istituzioni Libera da Meglio e del responsabile dell'area tecnica ed ex allenatore Attilio Piccioni. Il presidente Bartolini iscriverà la squadra, mentre prosegue il lavoro del consigliere comunale Ivan Costantini per trovare un gruppo di imprenditori locali che possano aiutare e rafforzare la compagine sociale in vista del prossimo campionato. Situazione di stasi a Francavilla. Il grado di impegno del presidente Gilberto Candeloro sarà più chiaro quando il patrone giallorosso avrà sciolto la sua riserva in merito all'ingresso nel Teramo.